Situazione di stallo per i laboratori dell'ATR di Colonnella da mesi in cassa integrazione dopo il fallimento dell'azienda registrato a novembre. Per le 80 maestranze c'è totale incertezza sul loro futuro con lo spettro del licenziamento che avanza. A fine marzo infatti scade per loro la cassa integrazione Covid a meno che questa non venga riconfermata. Anche nell'incontro organizzato per ieri i curatori fallimentari dell'azienda del Carbonio non si sono presentate la riunione del tavolo regionale di crisi sull'avvertenza. Un incontro molto atteso dai sindacati per avere risposto sul futuro dell'industria colonnellese. Preoccupazioni, il problema è che il tempo corre, gli ammortizzatori sociali in una prima fase è in scadenza il prossimo 27 di marzo ma soprattutto non riusciamo a intavolare un confronto anche con la curatela per la possibilità di individuare un nuovo soggetto o creare le condizioni affinché si possa rilanciare il complesso industriale dell'impresa e non si vada per una liquidazione del personale e una vendita solo degli immobili. Riteniamo che ci siano le condizioni, è chiaro che si deve cogliere la disponibilità di tutti i soggetti oggi deputati sul tavolo affinché si possa trovare una soluzione positiva e una ripresa delle attività. Diciamo che è la madre di tutte le altre realtà importanti che sono nate sia nel Piceno che lì a poi centinaia di metri. La forza di questa ATR è stata sempre la grande professionalità e non all'interno. È chiaro che non possiamo disperderlo ed è chiaro che è una grande opportunità sia per l'ATR, per le 80 famiglie ma anche per tutto il territorio della Val Vibrata, in particolare in una zona dove ci sarebbero anche delle risorse per l'area complessa e anche rispetto ai ragionamenti futuri dei contributi e dei finanziamenti nazionali.